Sono Walter Colico di Colico Extraordinari Design, azienda storica dal 1920, quindi terza generazione. Questa azienda nasce da una struttura artigianale, da una bottega artigianale Brianzola, con mio nonno che produceva sei sedie al mese. Noi siamo arrivati negli anni 70, industrializzando l'azienda, a produrre circa 6.000 sedie alla settimana. Nel 2010 mi è venuta in mente di realizzare una sedia storica, tipica milanese, delle trattorie milanesi, che veniva realizzata soltanto in legno, di realizzarla in policarbonato, quindi materiale nuovo, completamente trasparente, con un successo straordinario. Nel giro di due anni ne abbiamo prodotte oltre 100.000. L'anno successivo abbiamo realizzato Italia 150, che è sempre una sedia storica italiana, realizzata in polipropilene, quindi anche qui abbiamo preso un'altra icona storica del mercato italiano, e realizzata in un materiale tecnologico. Con l'ultimo salone di Milano abbiamo presentato prodotti più lussuosi, quindi utilizzando dei materiali molto più aggressivi, tipo legno massello, quercia, piuttosto che pelli vintage e altri materiali molto preziosi. La cura artigianale sul prodotto e la ricerca di materiali innovativi sono quelli che fanno apprezzare l'azienda a livello internazionale. Questa presentazione ci ha dato la possibilità di entrare in mercati nuovi per noi, come il Medio Oriente, quindi Dubai, Emirati Arabi e il mercato russo, che per noi adesso è uno dei primari mercati. Viva l'Italia! Grazie!